Ciao a tutti, abbiamo deciso di raccontarvi la nostra decisione, il percorso che abbiamo individuato insieme a gran parte dell'azienda, cioè delle persone che in questo momento rappresentano tutta l'azienda. L'abbiamo già annunciato nelle interviste con i social, ma insomma abbiamo preso la decisione evidentemente di trasformare Forumpia di quest'anno, Forumpia 2020, in un percorso, in un percorso che comincia già da queste ore, da questi giorni e ci porta fino a novembre. Comincia da queste ore, da questi giorni perché stiamo già approfondendo, stiamo intervistando, stiamo definendo i temi principali che porteremo avanti attraverso la redazione, attraverso le indagini, attraverso le nostre testimonianze appunto in video e scritte. La prima appuntamento, lo metto proponendovi la slide che in questo momento troverete sui nostri siti. Il primo appuntamento poi puntuale sarà a luglio con Forumpia 2020 online, una settimana dal 6 all'11 luglio, una settimana di eventi digitali di eventi a distanza che hanno ovviamente l'obiettivo di allungare le reti. Vorremmo confrontarci su quelli che sono i temi appunto della trasformazione digitale, ma anzi della resilienza digitale, cioè come il digitale aiuta un paese, aiuta le organizzazioni, aiuta le istituzioni a essere reattive, a essere resilienze. Lo faremo, dicevo, in un programma lungo una settimana su più canali, cercando di coinvolgere appunto i diversi territori italiani e i diversi territori europei. Ma poi non ci fermiamo in quello che dicevo che appunto è un percorso fino a novembre, quando invece, ce l'auguriamo tutti, lo diamo per scontato, ci saranno le condizioni per rivederci, speriamo ci potremmo rivedere molto prima, ma diamo per sicuro novembre, cioè dal 4 e 6 novembre, con Forum Pia 2020 on-site, cioè la formula tradizionale e anche in quello che è diventato negli ultimi anni il luogo tradizionale, cioè la nuvola. Come vi dicevo, abbiamo chiamato tre, con poi il finale di Carlo, tre delle persone che in questo momento gestiscono i gruppi e che ci stanno dando una mano ovviamente a gestire questo processo e questa sfida che è decisamente importante. Michela, Michela Fattore. Allora, grazie. Ciao Gianni, io coordino il gruppo delle Operation e per le Operation una breve battuta. Noi eravamo tutti, tutte abituati con il nostro Forum Pia a stringere le mani, a spostare tavoli e sedie, ad accogliere, abbracciare i nostri relatori, i nostri ospiti, un po' come se fossimo stati ad accoglierli proprio a casa nostra, se posso dirlo in questi termini. A luglio invece saremo noi ad andare in tutte le città e territori italiani, saremo noi ad entrare nelle loro case, nei loro studi, nei loro uffici, muovendo l'intera rete di innovatori, l'intera comunità di innovatori che da anni collabora con noi e ci segue. Quando si muove un'intera rete circolano idee, energie positive e voglia di fare qualcosa di veramente utile. Iniziamo a luglio, dall'11 luglio con il Forum Pia a digitale e poi proseguiremo fino a novembre con la manifestazione alla nuvola. Grazie Michele. Andrea, Andrea Baldassarre. Sì, salve a tutti. Io coordino l'area content, quindi appunto la struttura che si occupa dello sviluppo dei contenuti. Siamo in prima linea impegnati sullo sviluppo dei programmi congressuali che caratterizzeranno i due momenti di cui si comporrà la manifestazione di quest'anno. Saranno due programmi complementari, complementari sia dal punto di vista dei temi che dal punto di vista dei format. Come anticipava Gianni, a luglio ci dedicheremo in maniera molto più specifica sul tema della trasformazione digitale come elemento fondamentale per garantire una capacità di resilienza alle emergenze come quella che noi stiamo attraversando in questo momento. E quindi cercheremo un po' di trasmettere quella che è la sensazione della creazione di una maggiore consapevolezza dell'importanza dell'innovazione rispetto ad alcuni grandi settori, pensiamo al lavoro, la formazione, il settore sanitario come potete facilmente immaginare. Lo faremo attraverso degli approfondimenti tematici che saranno dedicati appunto a questi e a tanti altri aspetti come ad esempio l'infrastruttura tecnologica come elemento di resilienza del paese, la cyber security declinata come elemento per costruire fiducia nelle tecnologie digitali, la scuola, il tema dell'apprendimento come appunto questa emergenza ci ha fatto capire che è possibile un metodo diverso di apprendimento e di erogazione delle attività di istruzione e formazione. Per passare poi a novembre con una focalizzazione maggiore sul tema della politica industriale dell'innovazione. L'innovazione aveva già assunto un ruolo centrale nell'agenda politica e nei programmi di governo, adesso acquisisce un'importanza ancora maggiore proprio in virtù di quella consapevolezza di cui accennavamo prima e quindi sarà un momento in cui ci focalizzeremo sul concetto di ripartenza, sul concetto di restart Italia, lo abbiamo chiamato così, focalizzandoci in particolare su tre grandi temi, la centralità delle persone per una PIA che sia all'altezza della sfida della quarta rivoluzione industriale, l'impegno per portare l'Italia a quella che è stata definita una smart nation e infine gli obiettivi italiani ed europei verso la creazione di un new green deal. Sì, è green new deal, ma va bene lo stesso, sei andato lungo ma non ti tagliamo, non fa niente e Giovanna Stagno, tu cosa porti? Ciao Gianni, ciao a tutti, io parlo a nome dell'area GRAF, quindi dell'area formazione e advisory e come diceva Michela in questo forum PIA doppio che crediamo molto, è un forum PIA in cui valorizzeremo al massimo il ruolo delle reti, le reti di innovatori rappresentano i gruppi di lavoro che producono idee, che analizzano processi, si interrogano sul futuro della pubblica amministrazione. Nell'evento di luglio queste reti arrivano nei territori appunto e si estendono, nell'evento di novembre si consolidano, si rafforzano e proprio nelle community, nelle reti crediamo molto perché come sappiamo abbiamo avuto molto di vedere durante il corso dell'anno di lavoro, sono i luoghi in cui impariamo a condividere, a collaborare, a scambiare esperienze, a mettere a sistema sapere utile, quindi sono delle grandi fonti di apprendimento. Con questi innovatori, con queste reti porteremo avanti delle riflessioni sui temi dei dati, della trasformazione digitale, del rafforzamento delle competenze nella pubblica amministrazione, della formazione, così come il tema delle nuove frontiere, diciamo, del lavoro pubblico, dello smart working, ma così anche come i temi della comunicazione pubblica. Quindi appuntamento a luglio e poi arrivederci in presenza fisica a novembre. Grazie Giovanna e ultimo, anzi per ultimo, non ultimo, Carlo, Carlo Mocchi. Carlo non ti sentiamo. Ciao Gianni, ciao a tutti quanti voi. L'ultimo anno che faccio forum piatti dove ne fare addirittura due, cioè è veramente una sfida importante e anche qualche cosa di nuovo, anche per me che pensavo di averle viste di tutti i colori, con venti governi, con le elezioni che capitavano tra capo e collo. Questo è un grande impegno per noi, è un grande impegno che nasce da una consapevolezza. Non dobbiamo uscire da questa crisi come ci siamo entrati, dobbiamo uscirne meglio. For a smart nation, avevamo detto, ma dobbiamo dire for a smarter nation, per una nazione più smart, per una nazione che sia capace di ripartire partendo da due constatazioni che facciamo tutti i giorni. Io penso che le facciamo nelle nostre case, le facciamo guardando, leggendo e sentendo le notizie tutti i giorni. Abbiamo bisogno di innovazione, fortissimamente bisogno di innovazione, di trasformazione digitale, ma abbiamo questo bisogno perché abbiamo bisogno anche di coesione, di una comunità nazionale che sia coesa, sia coesa intorno ai suoi progetti di innovazione, ma sia coesa anche non dimenticando le due grandi emergenze che abbiamo, che sono l'emergenza dello sviluppo sostenibile, l'emergenza della riduzione delle disuguaglianze. Erano al centro della nostra attenzione quando volevamo fare una manifestazione fisica, sono al centro della nostra attenzione ora che ne vogliamo fare due. Vogliamo fare una grande manifestazione digitale, il più grande evento digitale che sia stato fatto finora in questo paese e vogliamo fare insieme una grande manifestazione in cui possiamo riabbracciarci fisicamente, come diceva Michela, perché se no ci mancheranno se no gli abbracci e nello stesso tempo ritrovarci su un nuovo progetto di paese, su un progetto di paese che sappia coniugare l'innovazione con lo sviluppo sostenibile e con la riduzione delle disuguaglianze. Noi ce la mettiamo tutta, io personalmente ce la metterò tutta a questo mio trentunesimo così strano di forum e tutti voi. Grazie Carlo, sei un po' singhiozzato, non tu, ma la linea che ti abbiamo seguito, ti ringraziamo. Grazie Michela, grazie Andrea, grazie Giona, tutti coloro che lavorano con voi perché voi siete solo appunto parte dell'azienda, rappresentate parte dell'azienda che in questo momento è impegnata. Non esce, ma lavora. Grazie, grazie a tutti e seguiteci sul nostro sito ovviamente.